Buonasera a tutti ragazzi, ben tornati in questo nuovissimo video siamo in diretta da Romics, Stend e Didywood dove andremo ad aprire 6 pacchetti da 50.000 crediti con degli youtubers pazzesco, soprattutto Joker che è sculato soprattutto Joker che è sculato devi farci una cosa, devi aprire un pacchetto devi aprire un pacchetto da 50.000 crediti ma non è totale attenzione, 4.000, attenzione, ok, eccolo oh, mia che pippone questo è il classico, ci facciamo manco un po' di denaro questo è il classico Dexter salve, provci qualcosa salve se trovo niente, non sa passare più su di denaro ma ci proviamo 50.000 crediti a Ieri ho spacchettato da una papona quindi potrebbe essere buono attenzione proviamo 4.000 crediti se esce Griezmann no oddio a tutte mi asse il corpo come fa non è non è questo ragazzo mi dici poi nel canale descrive sì sì sentiamo tutte con i due per i due scrive della Giustizia vedi tutto dai ce la faremo devi portar fortuna vogliamo un if vogliamo un if vogliamo un if a Simoni vai tu 50.000 gradi 50.000 gradi ecco ecco Cabrami che è incredibile Simoni un danno italiano grande fantastici fantastici sono sforzualissimo io voglio Pogbaic ci proviamo, attenzione, in diretta 50.003! no, quando vedece qua? io ho paura ora esce anche a sé andiamo mi sto toccando pure l'uomo 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 il più bidone della Juve l'ha trovato lascia, stai incredibile incredibile mi sto a toccando il culo io mi sto a toccando pure l'uomo oh, bellissimo questo è un forte covere devi aprire il pacchetto dai gioca per io, però io, vai gioca per l'uomo vai vai attenzione attenzione oh aspetta aspetta grazie per la prossima grazie a voi l'ultimo pacchetto sarà un troll però vediamo quindi non saprete mai chi troveremo perché è un troll vediamo finici questo un onore di cam lo devo fare mi devi toccare 50 mi toccare ok vedi che non trollarci facci trovare uno 50.000 katy pazzesco tyler aspetta forse c'è un if siete if è un troll un giorno di merda un giorno di merda di merda però si vediamo insieme ringraziamo il cameraman perché questo video andrà su più canali anche sul video ragazzi passate in descrizione passate in bocca passate in bocca di Fuse e noi ci becchiamo con un prossimo video bella ragazzi bella ragazzi